Già da tempo a Palermo si aspetta il garante dei diritti dei detenuti, adesso sarà il professore Lagalla a dover fare il passo. Sì, abbiamo inviato una lettera aperta al professor Lagalla, sottoscritta da me e dai co-presidenti Mangano e Apprendi, dove chiediamo che al più presto sia nominato il garante. La situazione nelle nostre carceri è invivibile, lo è a livello nazionale e ricordando una frase di un illuminista, la civiltà di una nazione si vede proprio da come funzionano le carceri. Ecco, durante questi mesi ci sono state numerose aggressioni sia al carcere dei Paiarelli sia al carcere delle Lucciardone. Guardi, la situazione è questa, che detenuti e detenenti sono la faccia della stessa medaglia. Il problema è appunto anche stare accanto agli agenti di custodia che convivono con i detenuti, quindi che sia una convivenza pacifica, oserei dire, non violenta. Devo dire che il Consiglio Comunale precedente ha elaborato un regolamento molto puntuale e preciso sul ruolo e su come il garante comunale possa rispondere alle esigenze della situazione carceraria. È stato fatto questo regolamento nel maggio del 2021, quindi più di un anno fa, ma a febbraio di quest'anno il sindaco uscente, che poi non ha più fatto ovviamente il sindaco, ha pubblicato un avviso a cui sono arrivate diverse offerte di collaborazione. Voglio ricordare che questo compito è a titolo gratuito, quindi non prevede spese per l'amministrazione comunale e quindi il nuovo sindaco dovrebbe solamente disporre di una determina per individuare la persona che riterrà più idonea a svolgere questo ruolo molto dedicato, che voglio anche precisare e sarà in stretta collaborazione con il garante regionale dei detenuti, che già esiste come figura del professore Fiandaca.